Nobito! Sto facendo video! 7 grammi! Ti andiamo! Si è Anciiglia? Si deve avanti! A presto! Grazie! Caparella! Caparella! Ancora! Non ciò che hai fatto? va 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 faccio il pallone faccio il pallone grazie Marco vado fatto in pallone Marco sei portato il pallone opposto vuole essere fatto in pallone vieni qua bravi Marco Ma fai un minggo Marco Mi fai soffo il video frate Mamma Ma ti fai la tua Amico il video puoi andare Marco sei grande Fai un blitz